La Compagnia Carabinieri di Vittoria, nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Ragusa, in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ibleo, ha consentito alle prime luci dell'alba di oggi di dare esecuzione al mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria rumena e pendente dal maggio 2016 nei confronti di un disoccupato, 21enne, condannato a 525 giorni di reclusione Per aver commesso in Romania, tra il 2012 e il 2013, furti aggravati il giovane, una volta localizzato, dopo mirati servizi di osservazione e controllo del territorio dei carabinieri della stazione di Acate, che avevano attivato le ricerche anche in campo internazionale per adempiere alla misura limitativa della libertà personale, è stato immediatamente tratto in arresto Dopo aver espletato le formalità di rito presso la caserma di Via Galilò Galilei è stato associato alla casa circondagliare di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria che curerà i rapporti con lo Stato estero ai fini dell'estradizione nonché per tutti gli altri provvedimenti di competenza correlati Grazie a tutti i nostri spettatori